Credo che questa vicenda abbia avuto un'eco mediatica sproporzionata. Alberto Francioli, presidente dell'Ordine dei Geometri, interviene sul caso dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Verbagna, Roberto Brigatti, che, secondo quanto denunciato dalla Lega Nord, avrebbe svolto l'incarico di progettista e direttore lavori in un cantiere a fondo toce, creando così un conflitto di interesse con il suo ruolo in giunta. La violazione dell'articolo 78 è tranciante, dice Francioli, il collega assessore ha commesso questa infrazione e prenderemo in seria considerazione l'accaduto. Si è già attivata la commissione disciplinare, che è un organo indipendente dal Consiglio dell'Ordine di cui Brigatti fa parte, nominata dal Tribunale. La commissione farà tutte le verifiche necessarie. Accanto a ciò, seppur è giusto che chi supera il limite di velocità paghi una multa, prosegue Francioli, mi sento di confermare la massima stima nei confronti del collega, che si è prestato all'amministrazione con spirito di servizio e non per ambizione politica. Ha sacrificato energie, salute e sottratto tempo alla propria famiglia per il bene della nostra città e quindi credo che meriti rispetto e che questa agogna mediatica sia esagerata.